Che cos'è questo Patto per il mare, Dorazzi? Il Patto per il mare l'abbiamo sottoscritto a Roseto il 23 giugno ed è un modo di incontrarsi tra il mondo dell'ambientalismo che noi abbiamo rappresentato in questa occasione con il mondo delle attività economiche, con il mondo dell'associationismo con gli imprenditori, con i balneatori, con gli albergatori e con i pescatori. Per la prima volta tutti insieme ci siamo impegnati in forme di tutela della natura nei parchi ma anche fuori dai parchi che possono dare un contributo importante a questa regione. Tanti sono anche i problemi da risolvere per quanto riguarda quella zona di Adriatico? L'area marina del Serrano in questo momento vive un problema molto forte di regolamentazione che pone in dubbio criticità e conflittualità con il mondo del lavoro sostanzialmente, il mondo della pesca ma anche quello dei balneatori. Lo si può risolvere con una formula innovativa riducendo i vincoli ma introducendo le aree contigue da regolamentare secondo i principi della Carta Europea del Turismo Sostenibile in modo da far sì che ci sia una crescita oculata del turismo e anche uno sviluppo sostenibile in un quadro di rispetto per la natura. Io penso che questa sia l'unica formula che si può utilizzare in un contesto fortemente antropizzato come quello dell'area marina protetta del Serrano ma anche quello della costa teatina. Anche in quel caso qualche vincolo in meno e qualche condivisione in più può aiutare finalmente a risolvere il problema e soprattutto a far partire un parco che è fermo da anni.